Il futuro più immediato di Ghelas passerà quasi sicuramente da una nuova proroga tecnica, quella in atto a scadenza a fine giugno. Non ci sono le condizioni in questa fase per porre le basi di un contratto pluriennale che invece è l'obiettivo prioritario del manager della municipalizzata, l'ingegnere Pietro Inferrera. Ieri queste conclusioni sono emerse dall'audizione del dirigente Mario Picone che è stato sentito dalla Commissione Consigliare Sviluppo Economico. Il presidente Rosario Faraci e gli altri componenti Luigi Diddio, Virginia Farruggia, Pierpaolo Grisanti ed Emanuele Alabiso più volte hanno focalizzato l'attenzione sullo stato della società in house. La crisi d'inizio anno è stata superata con lo sblocco delle somme dovute dal comune. C'è piena garanzia a copertura degli stipendi e degli oneri previdenziali, però così come ha riferito il dirigente in questa fase non pare praticabile alcuna strada che possa condurre ad un contratto pluriennale. L'amministratore Inferrera ha già fatto sapere che attende segnali dal sindaco e dagli assessori. Probabilmente l'unico che arriverà sarà per una nuova proroga. Nonostante ci siano state variazioni rispetto ai servizi, Gheras infatti ha perso quello delle strisce blu affidato ad una società privata. Lo scorso anno proprio la Commissione Sviluppo Economico aveva avanzato una complessiva proposta di rilancio dell'azienda che trovò sponde politiche all'assiste civica. Le difficoltà finanziarie del municipio in attesa del rendiconto 2021 per ora sono un cancello invalicabile. Ipotizzare un nuovo contratto a stretto giro non pare affatto plausibile. Il dirigente ha comunque invitato la Commissione a valutare la situazione complessiva anche sentendo l'amministratore Inferrera. A questo punto non è da escludere che il manager possa essere convocato. I consiglieri della Commissione stanno inoltre vagliando l'opzione di un'interrogazione sul caso Gheras da far pervenire all'assiste civica per avere una risposta dall'amministrazione.